Seconda casa al mare o in montagna? Conviene acquistarla oppure no? Continuo questa nostra analisi sul mercato immobiliare per l'inizio di questa seconda stagione di Sossoldi. Bentornati qui sul canale YouTube di Affari Miei. Io sono Davide Marciano, sono un imprenditore e un investitore nonché fondatore dal sempre più lontano 2014 di Affari Miei e con la mia attività guido gli investitori indipendenti che vogliono prendersi cura del proprio patrimonio a farlo in maniera profittibile e ragionata. Buongiorno a tutti, io sono Gabriele Del Mese e sono il fondatore di Maneviz. Maneviz è la prima piattaforma completamente online che si occupa di fiscalità di conti, trading e criptovalute. Benissimo Gabriele, con questa puntata ci colleghiamo all'episodio precedente in cui abbiamo parlato appunto di acquisto prima casa in questo caso appunto secondo episodio parliamo di seconda casa o terzo, quarto, quinta casa quando ne volete avere insomma parliamo quindi delle case successive alla prima e nello specifico della seconda casa al mare o in montagna che è un po' l'opzione più frequente sul tavolo di molte persone appunto che si interessano di questo tema e nel tempo che passeremo insieme vedremo innanzitutto quali sono le ultime tendenze mondiali alla luce anche di una ricerca pubblicata recentemente da Bloomberg poi cercheremo di capire in generale se conviene oppure no oggi acquistare un immobile appunto come seconda casa alla luce del contesto poi attuale che abbiamo già visto nell'episodio precedente di tassi bassi e situazione diciamo concettualmente conveniente per indebitarsi per acquistare un immobile e poi vedremo nella parte diciamo conclusiva di questa nostra chiacchierata cosa fare delle seconde case che abbiamo già che nella maggior parte dei casi sono le seconde case al mare o in montagna dei nostri genitori, dei nostri nonni o insomma dei nostri cari quindi se sei d'accordo Gabriele io comincerei proprio dalla lettura di questa ricerca appunto che mi hai recentemente linkato anche in privato e da qui è nata poi l'idea appunto di questa puntata io intanto faccio il regista e la proietto Sì allora questa è una ricerca abbastanza recente che non è italiana però è mondiale e sostanzialmente viene chiesto qual è la domanda era qual è la prossima casa che acquisterai? cioè stai pensando di acquistare una casa? Per quale motivo? La maggior parte ovviamente ha detto per aggiornare quindi per avere una casa più grande semmai in un posto diverso muoversi dalla città alla campagna perché questo è un altro dei trend a proposito di trend poi c'è un 15% che ha risposto per ritirare quindi per andare in pensione quindi diminuire semmai avevo una casa grande perché avevo due, tre figli e quindi avevo più stanze adesso che sono in pensione preferisco andare o al mare o in montagna o in una città d'arte o ovunque mi piaccia preferisco prendermi anche una casa più piccola poi ovviamente il 13% ci dice una nuova casa per le vacanze mare, montagna, anche lì o comunque città d'arte poi un 9% per spostarsi permanentemente in una nuova nazione e via via tutte le altre ragioni che diventano ovviamente meno frequenti ma comunque importanti come per esempio un luogo migliore per l'educazione dei propri figli perché semmai c'è un'università oppure ci sono occasioni di crescita diverse per i propri figli e quindi da genitore le famiglie si spostano dove i figli possono avere maggiori opportunità e poi tutto il resto ovviamente circostanze personali qualità della vita, qualità dell'assistenza sanitaria motivi di lavoro perché ho trovato un lavoro in un'altra città di mi sposto questo è il quadro generale ed è estremamente interessante vedendo questo sondaggio che cosa ti viene in mente Davide? mi viene in mente che ci sono fenomeni vecchi e fenomeni nuovi sicuramente la pandemia ha portato molte persone a farsi delle domande circa proprio come desiderano vivere nel senso che ci siamo resi conto tutti che probabilmente alcune soluzioni abitative che prima consideravamo normali come magari avere una casa dove andiamo solamente a dormire e ci stiamo poco cominciavano a starci strette e quindi da lì c'è una necessità in generale di prendere una casa più grande oppure di acquistare magari un appartamento che abbia più spazi anche all'aperto soprattutto chi ha famiglia immagino che abbia fatto molta fatica durante i vari lockdown con i bambini a tenerli in casa quindi sicuramente ci può essere questa esigenza o perché no anche di respirare una qualità dell'aria migliore in generale di avere un'esposizione migliore e tra le varie cose ovviamente nel periodo di pandemia ha anche sdoganato parecchio il lavoro in remoto soprattutto chi svolge una libera professione o svolge un'attività di coordinamento e responsabilità in grandi aziende e in tanti casi adesso ha una maggiore flessibilità sul lavoro quindi può anche magari lavorare per qualche giorno fuori dall'ufficio e quindi magari in tanti sia negli Stati Uniti che in Italia l'ho visto anche dall'esperienza quest'estate con i nostri clienti voglio dire abbiamo fatto delle call con clienti che ci rispondevano dal mare chiediamo ma stai in vacanza? no sto al mare o sto in montagna perché faccio ovviamente lo smart working o remote working come lo vogliamo chiamare quindi questa esigenza diciamo accompagnata anche da un cambiamento probabilmente dello stile di vita sta portando un po' le persone a farsi domande vecchie e nuove perché ovviamente la domanda di dove mi curano meglio dove posso far studiare i miei figli è una domanda vecchia un po' quanto l'uomo probabilmente la domanda di dove posso andare a lavorare per qualche giorno a settimana o per qualche settimana durante l'anno è una domanda per certi versi nuova o comunque che prima era residuale rispetto ad oggi e quindi giustamente il tema delle seconde case in qualche modo è tornato di attualità è un tema che io stesso ho toccato quest'estate quando sono stato in vacanza parlando un po' con le persone del luogo insomma finisco sempre per parlare di soldi quando mi relaziono con le persone quando vado in albergo parlo con l'albergatore la prima cosa che fa quando gli dico che lavoro faccio mi comincio a parlare di soldi parlando un po' insomma con le persone pure che ho avuto modo di conoscere in effetti è un fenomeno che ho visto anche io dalla mia esperienza non solo dai dati quindi è lecito probabilmente farsi questa domanda ed è lecito magari fare anche un upgrade rispetto a delle considerazioni che abbiamo fatto in passato perché poi è la domanda di fondo che governa la scelta dell'acquisto di un immobile l'abbiamo visto anche per la prima casa è sempre ma mi conviene farlo oppure no quindi alla fine dei conti tutto si riduce talvolta in maniera anche voglio dire non propriamente corretta però tutto si riduce a mi conviene acquistare oppure no dal tuo punto di vista Gabriele conviene acquistare una seconda casa in questo momento oppure no? allora questo si ricollega un po' alla puntata precedente di questo miniciclo che stiamo facendo dedicato all'immobiliare quindi se non l'avete vista vi consigliamo comunque di vederla perché alcune caratteristiche sono simili è chiaro che oggi come diceva pure Davide tassi di interesse basso cambiamenti epocali perché il covid ha causato un'accelerazione in alcuni cambiamenti che erano comunque in atto perché il remote working comunque era qualcosa che i quadri, i dirigenti, i libri, i professionisti già facevano però semmai prima della pandemia la riunione con il cliente l'aggiornamento con il partner lo dovevi fare fisicamente ti dovevi spostare per chilometri e chilometri invece oggi la call con Zoom è diventata una cosa totalmente sdoganata e questo ha portato a una serie di cambiamenti infatti questo stesso sondaggio di Bloomberg che cosa ci dice? ci dice che la percentuale di persone che sono interessate ad acquistare una nuova casa per le vacanze è aumentata di un terzo rispetto alla pre-pandemia quindi oggi è il 13% che sta valutando l'acquisto di una seconda o una terza casa perché in alcuni casi ovviamente a seconda del proprio budget però è in aumento è in aumento perché? perché ovviamente io posso lavorare tre giorni in ufficio e poi semmai il giovedì partire, andarmene in montagna quindi relativamente a mare a seconda della stagione è lavorare da lì o lavorare completamente tutto il periodo estivo come alcuni clienti o fornitori insomma o partner hanno fatto quest'estate da un posto di mare o di montagna a seconda delle preferenze oggi sì è interessante fare questo tipo di ragionamento perché i tassi bassi consentono di avere condizioni favorevoli sui mutui ovviamente la raccomandazione è la stessa dell'acquisto della prima casa la seconda casa non è un investimento è qualcosa che se a noi piace andare sempre nello stesso posto riteniamo di avere un lavoro che ci consente di starci parecchio tempo in questa casa quindi di utilizzarlo effettivamente non di andarci due settimane l'anno oppure un mese l'anno due settimane d'estate due settimane d'inverno allora può essere interessante farlo in questo momento con una raccomandazione i prezzi in questo momento sono comunque in aumento perché non siamo il sondaggio ci dice che non siamo soltanto noi a pensare questo ma è la maggior parte degli italiani degli europei, degli americani e dove si spostano se lo spostamento è per piacere non ti sposti nel tuo, nel paesello in una periferia ma cerchi il posto centrale cerchi la località turistica e quindi le case che hanno gli appartamenti le ville che hanno queste caratteristiche stanno aumentando il proprio prezzo quindi se tu acquisti stai pensando di acquistare oggi una casa ti deve piacere ti deve piacere il posto ti deve piacere la casa ma devi essere consapevole che è molto probabile che la stai acquistando ad un prezzo più alto del suo valore medio Eh sì, esatto è una tendenza sicuramente che caratterizza anche il mercato delle seconde case perché ovviamente se i soldi sono dati un pochino anche come accade sui mercati finanziari se c'è tanto denaro che viene immesso le aziende hanno tanti soldi per fare investimenti lo vediamo anche quando leggiamo le analisi trimestrali insomma le commentiamo come centro studi è chiaro che se un'azienda ha tanti soldi e può fare investimenti magari aumenta anche il fatturato lo stesso accade anche con gli acquisti di privati le logiche che governano in generale il ciclo poi del debito, del credito a seconda del punto in cui siamo se siamo creditori o debitori sono più o meno le stesse ecco, al di là di queste considerazioni c'è un altro tema secondo me che può essere interessante in questa chiacchierata che stiamo facendo che è un po' se vogliamo l'alta faccia della medaglia della vicenda cioè oltre a chi pensa di acquistare una seconda o una terza casa c'è chi una seconda o una terza casa c'era già perché diciamo la seconda o la terza casa era un po' l'investimento dei nostri nonni che non conoscevano i mercati finanziari vivono nel boom economico e ci sono intere località turistiche che sono surte un po' con il risparmio ecco, dei nostri nonni che compravano la seconda o la terza casa e tante persone si trovano già ad avere un immobile o più immobili appunto in località di questo tipo rispetto a una situazione del genere quindi parecchie persone spesso ci chiedono cosa farne di questi immobili perché magari li hanno acquistati i genitori o i nonni adesso tante volte non sanno che fare anche perché sono poi confusi un pochino da quello che leggo in online che dicono che le case non si comprono si affittano insomma ne abbiamo ne abbiamo ampiamente parlato nella prima puntata quindi invito veramente a guardarla perché questa è collegata rispetto a questo tema tu Gabriele che idea ti sei fatto cioè se tu avessi non te l'ho mai chiesto ma se tu avessi una seconda casa al mare o in montagna non so se ce l'hai ereditata magari quindi non tua tu cosa faresti? quali sarebbero le raccomandazioni di buonsenso? ecco che daresti a un amico a una persona che ci segue la prima raccomandazione di buonsenso ovviamente è quella di verificare l'effettivo utilizzo stimato di questa casa perché se hai una casa in un posto va bene che qui entra in gioco l'house money perché non avendo comprato noi quella casa ma avendola ereditata noi la percepiamo come qualcosa di gratis quasi come una vincita alla lotteria quindi questo ci influenza i nostri ragionamenti il consiglio è di non farci influenzare dal ragionamento noi dobbiamo immaginare quella casa l'abbiamo acquistata noi e quindi avendola acquistata noi la raccomandazione è né di svenderla perché tanto qualsiasi cosa ci ricavo io non ci ho messo un euro quindi è tutto guadagno no è peccato perché probabilmente ci sono persone nonni genitori insomma c'è qualcuno della famiglia che ha fatto dei sacrifici per quello quindi da un punto di vista etico lo sconsiglierei ma anche pratico e la seconda raccomandazione ovviamente è valutare se effettivamente c'è un utilizzo se pensiamo di utilizzarla se pensiamo di utilizzarla ci piace il posto ci piace la casa le spese non sono eccessive allora può essere utile tenerlo anche lì è personale in questo caso è personale se invece il posto non ci piace la casa è fatiscente richiede altri lavori altri investimenti per metterla a nuovo e per renderla di nuovo diciamo decente o vivibile a questo punto valuterei scelte differenti sì sono d'accordo anche perché non sempre voglio dire poi gli acquisti in passato sono stati fatti insomma bene o comunque ci sono situazioni che sono sono cambiate penso a una zona che noi frequentiamo parecchio soprattutto in estate che è un po' la zona della Vialattia qui in Piemonte e lì ci sono ovviamente dei paesini che mantengono un certo appiglio perché sono tra le più rinomate località scistiche d'Europa ce ne sono altri magari adiacenti oppure in Val Susa o insomma in altre valli qui in Piemonte dove voglio dire i cartelli vendesi ormai sono più delle persone quindi come dire dipende se siamo fortunati che abbiamo ereditato l'immobile in un luogo che ha un mercato può essere un'opportunità o economica o di lifestyle mettiamola così è chiaro che se l'abbiamo ereditato in un posto che non ha un mercato è più un problema che altro in generale io sono d'accordo con te nel senso che molto dipende da quelle che sono le nostre abitudini perché essendo appunto un bene di consumo come dico tante volte se lo usiamo va bene se no è come comprare un'automobile da 50.000 euro e metterla nel garage e non usarla mai tanto vale che non te la compri se la compri è perché ti piace pur uscire e utilizzarla lo stesso vale anche con la casa sapendo che in certi casi purtroppo può essere un problema se non c'è un mercato se c'è un mercato o se c'è un interesse da parte nostra poi si possono fare altre altre valutazioni fermo restando che comunque l'esigenza di avere magari più tempo da trascorrere in luoghi diversi dalla città può essere e anzi è sicuramente un'esigenza crescente da qui ai prossimi anni quindi soprattutto se qualcuno di noi è una famiglia è un tema di cui tener conto perché ovviamente ci sono anche le relazioni dei bambini dopo che finisce la scuola le loro attività che magari possono essere fatti in altri luoghi e poi c'è il tema della qualità della vita perché noi parliamo da Torino siamo in pianura padana voglio dire in pianura padana ci sono tante belle cose ma c'è anche l'aria insomma che se non facciamo questa transizione green non è proprio delle migliori quindi avere la possibilità magari per alcuni periodi dell'anno di vivere in un altro luogo dove magari si respira diciamo un po' di aria pulita in più può essere una cosa che fa bene alla nostra salute e magari fa bene anche all'ambiente perché ci spostiamo e andiamo a inquinare tra virgolette da un'altra parte quindi spostiamo il nostro carico la nostra cuda di inquinamento in un altro luogo aiutando un po' a distribuire insomma il peso su varie località ecco io direi che possiamo concludere questo nostro ragionamento e quindi fare un breve riepilogo di quello che ci siamo detti finora abbiamo parlato della seconda casa e in generale abbiamo parlato in queste due puntate di immobiliare che io definisco un po' il sogno erotico degli italiani lo posso dire dopo due puntate spero che non mi censuri youtube quando parliamo del mattone si accende un po' l'erotismo finanziario che è dentro che è dentro di noi quindi abbiamo parlato in questo episodio nello specifico della seconda casa dell'acquisto della seconda casa abbiamo visto che c'è un fenomeno mondiale che in certi modi segna un'inversione di tendenza rispetto a prima cioè ci sono più persone che stanno ragionando di acquistare un secondo o un terzo immobile in un altro luogo perché stanno cambiando le esigenze di lavoro e i ritmi di vita in generale abbiamo visto che comunque è un periodo storico tendenzialmente favorevole per prendere dei soldi in prestito quindi per acquistare perché i tassi sono molto bassi abbiamo visto alcune regole di buon senso insomma quando conviene oppure no acquistare un appartamento o comunque gestire un appartamento in una località turistica e abbiamo fatto qualche ragionamento in generale che è molto collegato all'acquisto sulle case sulle seconde case in eredità quindi che cosa fare con quegli immobili che abbiamo ereditato in località turistica abbiamo un po' dato la la nostra visione quindi questi sono i temi più importanti non so se hai qualcosa da aggiungere tu Gabriele non ho nulla da aggiungere se non ricordare quello che abbiamo detto anche nella prima puntata acquistare la seconda casa o mantenerla deve essere qualcosa che ci fa stare bene che ci conviene non solo dal punto di vista economico ma dal punto di vista direi morale esatto la seconda casa è un consumo esattamente come la prima casa non è un investimento tolto l'investimento è un consumo i consumi li facciamo se ci piacciono se ce li possiamo permettere e se riteniamo che valgano quello che valgono per qualcuno può volere tanto per qualcuno può volere poco sdoganato il tema degli investimenti l'acquisto di una seconda casa è un consumo come acquistare una macchina come acquistare qualsiasi cosa insomma come acquistare non so ti ho comprato un paio di occhiali tecnologico recentemente per esempio quello pure pure è un consumo voglio dire l'ho scoperto da te che era un occhiale tecnologico perché non lo sapevo però mi hai spiegato insomma che sì sì esatto come quei però anche in quel caso se te lo compri però non lo utilizzi perché lo utilizzi soltanto per con occhiali da sole e poi non vai mai al mare insomma è solo un acquisto di un gadget ma non serve se invece lo utilizzi tutti i giorni allora hanno un'utilità diversa giusto per rimanere nell'esempio di questi occhiali tecnologici che semplicemente sono bluetooth e nulla di strano esatto ovviamente ricordo a chi ci guarda in video a chi ci sta seguendo che in descrizione del video di youtube del podcast ci sono una serie di contenuti che abbiamo prodotto nel corso degli anni su affarimi dedicati all'immobiliare all'acquisto della prima casa della seconda casa sono sei articoli che video podcast quindi c'è materiale per approfondire questa voleva essere una chiacchierata per introdurre il tema e per cominciare a fare qualche ragionamento ad altavuce poi è chiaro che ognuno deve valutare la sua situazione particolare alla luce della sua situazione appunto ecco personale io e io ricorderei anche un'altra cosa che in descrizione trovate visto che la scadenza fiscale del tren l'ultima scadenza utile del 30 novembre si avvicina se avete dubbi sul se dichiarare o no perché avete fatto investimenti nel corso del 2020 c'è un link in descrizione con un ebook gratuito parliamo di dichiarazione conti trading per chi non conosce Maniviz esatto ok io direi che con questo possiamo concludere e ringraziare gli amici che ci hanno seguito l'appuntamento è con la prossima puntata di Sossoldi continuate a seguirci perché abbiamo ripreso finalmente questa seconda stagione a presto ciao ciao ciao